Nooo! Vigilio sui fanali dello spazio! Ma è una trashata! Se ne frega, è troppo chic! Le voglio! Senti Alfonso, ho visto il mio iPhone? Ti sembro uno che va a spiare negli iPhone degli altri i messaggi, le chiamate? Che chiami? Mi chiamo così capisco dove va. Non lo faccio più. Falla la stanza degli ospiti! Ha orrore la stanza degli ospiti! Io non c'entro niente con la mia idea di design, ok? Sì, ho sete. Tu cazzo di design! Io sono gay. Io sono gay. Io sono gay. Io sono gay. Un corso di autostima. C'è un altro uomo, lo sai? Come ti viene in mente? Ci vogliono almeno tre anni di psicanalisi. Mi piace questo giochino. Allora vuoi la guarda? Cosa c'è? Lo conosci? Oddio, che fai? Ma cosa cosa fai? Lascia! Lascia! Mamma bocca! Chi del buono? Mi hai fatto spaventare? Aaaaaah! Guarda come ha lasciato! Non mi riconosci più! Morelli di su, Morelli di giù! Parla sempre di Morelli! Ma che sto richiune? Facciamoci sto cazzo di sempre! Sì, sì! Oh, selfish! Cazzo, troppo bella! Oddio, che ho fatto? Signora, le righe orizzontali allargano. Che mi piace il mio marito! Aaaaaah! Ma che cazzo l'ha mai visto suo marito? Aaaaaah! Senti come godo? Saluti a casa! Saluto ma assorto! Laura, io non sono come tutti gli altri! Come sarebbe? Io sono... Tu sei? Cioè, io ero... Tu eri? Vegano! Amore, anch'io sono vegana! Davvero? Poi a me va bene tutto! Basta che non sei gay! Tra i trailer più visti nel 2014 c'è quello di Avengers Age of Ultron. Oggi ho per voi qualche curiosità su questo film. Hugh Jackman voleva partecipare al progetto per organizzare un combattimento tra Wolverine e Iron Man. Durante le riprese del film Scarlett Johansson era incinta e nelle scene d'azione è stata sostituita da ben tre controfigure. E pare che i suoi colleghi facessero abbastanza fatica a distinguere Scarlett dalle stante che le assomigliavano tantissimo. Scaricate l'app di FilmIsNow e noi ci rivediamo al prossimo video!